La massacrata di botte fino a ucciderla, una violenza feroce, brutale, a cui non è possibile trovare giustificazioni. Così, secondo la ricostruzione investigativa, il calciatore Giovanni Padovani, nato a Senigallia 27 anni fa, tesserato lo scorso 16 luglio dalla San Cataldese e poi svincolato, ha ucciso l'ex compagna Alessandra Matteuzzi, di 56 anni. Padovani aveva lasciato la Sicilia e si era recato a Bologna, dove viveva l'ex compagna. Secondo la tesi degli inquirenti, l'attesa sotto casa è quando Alessandra Matteuzzi è rientrata, si è avvicinato e, ignorando le richieste di lei di lasciarla stare, l'ha aggredita, massacrandola di botte. Ora il 27enne è in stato di fermo. Recentemente la donna aveva denunciato Padovani per stalking e nei confronti di quest'ultimo era stato anche emesso il divieto di avvicinarsi a lei. La società verde Amaranto aveva già allontanato il calciatore alla vigilia del vittorioso match di Coppa Italia contro il Catania per allontanamento ingiustificato e la dirigenza, in un post su Facebook, nel ribadire di avere già allontanato il calciatore, ha dichiarato condanniamo senza sé e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna per la furia e la ferocia che ha subito Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è sciocco e sgomento. La dirigenza verde Amaranto si stringe al dolore della famiglia della vittima, certi che la legge farà il suo corso.